Anno 1462, Costantinopoli era caduta. I musulmani turchi dilagarono in Europa con un immensurabile, fortissimo esercito, attaccando la Romania e minacciando tutto il mondo cristiano. Dalla Transilvania si levò un cavaliere rumeno del Sacro Ordine del Dragone, conosciuto come Draculia. Alla vigilia della battaglia, la sua sposa, Elisabetta, la cosa più cara che aveva sulla terra, sapeva che egli avrebbe potuto affrontare una forza insurmontabile, per la quale avrebbe potuto non tornare più. Alla vigilia della battaglia Alla vigilia della battaglia I turchi vendicativi lanciarono una freccia dentro il castello che recava la falsa notizia della morte di Dracula. Elisabetta, credendolo morto, si gettò nel fiume. Alla vigilia della battaglia Alla vigilia della battaglia Prende su lei Il mio principe Senza di lui tutto e per tutto Possa Dio ricongiungerci Non è vero, non è vero. No, no, no. Sì, 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 sì. Grazie a tutti.